partite al comando si porta Elusi Bales nei confronti di Blasius che gradatamente perfeziona il sorpasso e passa a condurre in seconda posizione Elusi Bales nei confronti di Ramo Caffeina poi Sanson ancora Life Dance con in coda Mujahidob Caffeina Blasius prosegue in vantaggio dopo i primi 700 metri di corsa e conduce davanti a Ramo Caffeina che precede Elusi Bales all'interno poi Sanson ancora Life Dance con in coda Mujahidob Caffeina Cavalli ora lungo la curva di fondo sempre Blasius leader nei confronti di Ramo Caffeina in terza posizione Elusi Bales in quarta Sanson ed in coda apparegliati all'interno Life Dance e all'argo Mujahidob Caffeina Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo Blasius sta allungando tallonato da Ramo Caffeina che sposta al suo esterno trascinandosi all'esterno Elusi Bales dietro i primi è appostato Sanson poi lungo la corda insegue Life Dance e all'argo di tutti in coda Mujahidob Caffeina Blasius viene superato di slancio da Ramo Caffeina che è impegnata all'esterno da Elusi Bales per linea interna cerca di avanzare Life Dance mentre a centro pista sta scattando anche Sanson siamo nel tratto finale con Sanson che sta passando di forza nei confronti di Ramo Caffeina e Elusi Bales apparegliati per il posto d'onore andiamo a rivedere le immagini che ci propongono il numero due Sanson in evidenza centro pista ancora Salvo Basile in doppietta prima e seconda corsa per lui poi per il secondo posto incertissima la lotta tra Ramo Caffeina all'interno e Elusi Bales all'argo e dobbiamo aspettare quindi il risponso del giudice di arrivo